God Save the Wine, tre parole per dirlo. Come ogni volta God Save the Wine si avventura e chiama da tutte le parti d'Italia dei produttori a spiegare i loro vini. Stavolta il carico di spiegarlo in tre parole quindi non sarà facile perché Robert viene dal Friuli Venezia Giulia, in provincia Pordenone quindi lontanissimo, agli antipodi diciamo del resto dell'Italia e quindi tre parole sono poche per descrivere questa zona. Sì effettivamente sì, tre parole diciamo per quanto riguarda i miei vini e la mia azienda possiamo dire freschi perché comunque si parla di giovinezza, si parla di azienda che non ha una lunghissima storia perché è un'azienda giovane. Parliamo di personalità perché i vini comunque sono propri, non sono vini omologati, chiamiamoli così, significativi perché comunque cerchiamo di dare un'impronta al territorio e di conseguenza anche al mercato. E quindi ecco dal Friuli uno pensa subito a vini bianchi ma non solo. Sì diciamo che il Friuli tradizionalmente è vino bianco, in particolare pino grigio, andiamo contro tendenza e parliamo di refosco. È un vitigno fortemente autoctono, si trova solamente nella bassa friulana quindi neanche in collina ma in pianura. È un vino dalla grande struttura, dalla grande possenza però non viene invecchiato quindi proprio per questo va anche giovinezza, freschezza. È un vino frutto comunque dai forti toni di personalità diciamo. Ecco la personalità effettivamente appena ci mettete il naso dentro vi rendete conto che è un mondo completamente diverso a quello a cui siamo abituati. C'è questa nota di spezie che arrivano, questa nota di liquirizia, di peperosa, di zenzero che arriva subito ricchissimo al naso e non siamo abituati. Poi viene sicuramente la frutta, una frutta di bosco, il lampone, un vino ricchissimo e in bocca effettivamente è corposo, cioè c'è una bella struttura ma non è esagerato. Diciamo che il refosco di per sé può somigliare a un vino di lungo invecchiamento però è di pronta beva. Viene abbinato piacevolmente a dei salumi, a comunque delle carni magre, di pollo, comunque anche a piatti tipici, ha dei primi abbastanza importanti. Diciamo che è un vino più da bere che da mangiare in contraposizione a quello che siete abituati in Toscana. A voi magari, mangia e bevi. Una bottiglia si beve, insomma. No vabbè, per fortuna la freschezza del Friuli a God Save the Wine. Buona serata. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.